La notizia farà gioire gli amanti della cultura, della musica e delle arti, l'auditorium comunale del capoluogo tornerà presto a ospitare eventi e spettacoli. Sono in fase di ripresa infatti i lavori allo stabile di Piazza Duomo, chiuso da oltre dieci anni per un intervento di ristrutturazione che, stando a quanto afferma l'amministrazione bellunese, potrà ora essere completato in poco meno di un anno. I lavori del valore complessivo di 1.300.000 euro coperti dal PNRR saranno divisi in tre parti. Si tratterà del passo conclusivo necessario a dare completamento al restauro conservativo dell'immobile, i cui primi interventi di carattere strutturale edile e impiantistico sono iniziati nel 2013 e finiti nel 2016, quando la mancanza di fondi aveva determinato una battuta d'arresto. Sia la scuola Miari ma tante associazioni potranno ritornare a fare attività lì e portare anche i propri concerti. Quindi questo credo che per la città sia una grande opportunità. In più abbiamo anche pensato di installare un ascensore perché questa cultura possa essere fruita veramente da tutti. In particolare il cantiere consentirà la riapertura al pubblico della sala auditorium pensata per concerti, convegni e incontri pubblici, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione dell'area archeologica e la riqualificazione delle facciate esterne. Un intervento atteso, quello della ristrutturazione dell'auditorium di Belluno, un palazzo in cuore della città che è fermo da dieci anni. Tre interventi in uno, ristruttureremo ovviamente la parte esterna delle facciate, la parte della sala auditorium e la parte archeologica dietro. Tre interventi guidati dai nostri uffici tecnici, eseguiti dalla Merotto Bau SRL, opere importanti che la cittadinanza aspettava da molto, moltissimo tempo. Il cuore della città e il cuore della musica del Comune di Belluno avrà finalmente la sua casa.